Poiana Maggiore, scontro tra due auto in via Palladio. Un Audi A5 si è scontrata con la Peugeot 208 con a bordo due donne e un bambino. A prestare i primi soccorsi assieme poi ai sanitari del 118, un medico che transitava lungo la stessa strada. Ferite le due donne che sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti, illeso fortunatamente il bambino che viaggiava dietro con loro. Nessuna conseguenza nemmeno per il conducente dell'Audi. Per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente è intervenuta la polizia locale.